Il primo vaccino a un 59enne pugliese sarà somministrato domani. Si tratterà di una sorta di V-Day, soltanto poche centinaia di somministrazione durante la giornata, 500 nella sola asla di Bari e qualche migliaio nel corso di questa settimana. Per andare al regime bisognerà aspettare l'arrivo dei vaccini, il completamento di fragili e delle altre categorie per età. Ma la richiesta è già molto più alta rispetto alla fascia precedente. Sono 6.767 i pugliesi tra i 58 e i 59 anni che nel giro di poche ore hanno prenotato la loro somministrazione. Questa fascia d'età riceverà Pfizer e Moderna. Di vaccini ne servirebbero almeno 100.000, ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco, per portare avanti le attività senza interruzioni. Ed è il motivo per cui dovranno attendere fine maggio, nonostante la sigla del protocollo avvenuta ieri tra tutte le attività produttive e i sindacati pugliesi e la regione, le vaccinazioni sul posto di lavoro. Intanto la regione ha lavoro anche per allestire un'app che possa contenere le tre informazioni fondamentali. Vaccino, malattia già fatta, tampone per il cosiddetto Green Pass. In questi giorni, ha spiegato Lopalco, gli esperti informatici stanno sviluppando le modalità con cui inserire tutti i dati indispensabili, compresi quelli sull'orario dell'esecuzione del tampone. L'attività è stata già segnalata al Governo, come anche le sperimentazioni del comparto dell'intrattenimento. Si lavora invece dal punto di vista giudiziario per l'inchiesta sui presunti furbetti dei vaccini. Ieri sono terminati tutti i 54 interrogatori. Tra i 27 ascoltati nel pomeriggio scorso c'erano segretari di studi medici di Bari e Provincia, lavoratori di ditte incaricate di manutenzione in strutture sanitarie. Questi hanno risposto alle domande dei magistrati spiegando di non aver saltato la fila, ma di essere stati chiamati dall'ASL per la somministrazione del vaccino. Toccherà ora agli inquirenti, confrontando l'esito degli interrogatori con gli accertamenti investigativi, stabilire se sono stati effettivamente commessi e reati. Parallelamente all'inchiesta penale è in corso un'indagine amministrativa disposta dalla regione, affidata al nucleo ispettivo sanitario. L'avvocato Antonio Lascala, che ha concluso il lavoro di verifica sulle 196.000 somministrazioni fatte dal 27 dicembre al 15 febbraio scorso, depositerà la relazione sulla scrivania del governatore Michele Emiliano nei prossimi giorni.